salve bentornati al tg lego scarseggiano le notizie ufficiali gli annunci ma sono usciti un sacco di rumore in questo periodo e quindi era bene fare un tg lego riassuntivo e parleremo anche di altre cose vi ricordo però che potete mandare le foto delle vostre collezioni lego a vitojuvara a chiocciola gmail.com 5 immagini e il nome che vogliate sia utilizzato ripeto il nome che vogliate sia utilizzato che non lo mettete mai comunque abbiamo già i 5 partecipanti per un prossimo episodio appena un attimo lo registro e viene online l'episodio grazie mille a tutti i partecipanti di questa splendida community siete tanti insomma stiamo facendo delle cose fighe c'è una cosa però di cui vorrei parlarvi nel tab community del canale lego avevo cominciato a mettere magari non tutte ma alcune immagini quando l'annuncio esce nel periodo di mezzo dei tg lego questa cosa è figa secondo me perché vi informa tra l'altro sul canale instagram di vitos lego south faccio più o meno la stessa cosa ed era simpatico però se poi non mi andate a vedere il tg lego perché le notizie le avete già viste e ho visto che i numeri sono un po in calo mi fate piangere è una brutta cosa invece serve che il tg lego cresca serve che arriviamo a 10.000 così ce ne andiamo tutti in danimarca partiamo dall'unico lì clamoresissimo di questa settimana che sono le minifigure della serie disney erano uscite prima alcune minifigure ma poi è uscito proprio il cartoncino della serie a me piace veramente un sacco sono stupende quelle di robin hood è stupenda la regina di cuori sono belle quelle della pixar l'unico un po che fa cagare bei max possiamo dirlo ma su 18 secondo me è una veramente una bella serie a occhio dovrei ricordarle un po mi sembra anche nettamente migliore delle altre due serie disney già uscite comunque questa la prendo sicuramente e ci inventeremo qualcosa di nuovo per parlare anche delle minifigure visto che fino adesso non ne abbiamo mai parlato insieme e alcune serie io ogni tanto le prendo tra l'altro pare che dovrà uscire anche questa dovrebbe uscire a maggio questa della disney dovrebbe uscire un'altra serie dedicata star wars si comincia a vociferare e dovrebbe prendere le minifigure uscite nei primi anni della serie lego star wars un po riadattate anche questa la prenderei probabilmente sicuramente partiamo con una sequenza incredibile di rumor il 75 367 arena evoke village quindi un master builder di star wars la serie che io non prendo io prendo solo ucs 650 dollari 5374 pezzi qui bisogna vedere se fanno proprio l'arena dove c'è il combattimento clamoroso di episode one e lì ci mettono 8000 minifigure quindi set che si potrebbe rivalutare in modo incredibile altro rumor 75 371 una figure di chubecca spero di averlo pronunciato bene 2320 pezzi 200 dollari questa potrebbe già interessarmi un po di più ma vediamo che fanno perché potrebbero anche cannarla sulle figure fanno ancora abbastanza sono ancora abbastanza altalenanti diciamo però parliamo sempre di un set da 200 dollari probabilmente con targhetta rumore invece per quanto riguarda i supereroi 76 269 della marvel 530 dollari 5261 pezzi non si sa però che cosa sarà né di questo né del 76 252 su batman 450 dollari 3981 pezzi cominciate a pensare cosa potrebbe essere a me a parte una batcaverna di batman da 450 dollari non mi viene in mente niente avevano fatto quella ce n'era un pezzettino nella quella che io ho tra l'altro non montata degli anni della serie degli anni 70 che non mi era piaciuto granché perché era molto diorama quindi vediamo cosa ci tirano fuori su batman sono molto interessato e a marzo infatti prenderò la moto technics a marzo ricominceranno anche i montaggi in diretta perché ce n'avremo tanto da montare prenderò tutte le speed champion e la motocicletta e quindi finalmente si tornerà a fare anche i montaggi devo dire che fino adesso in due mesi ho preso solamente il l'onda di okusai quindi diciamo primi due mesi leggo mi abbastanza lasciato in pace altro rumor ancora un set clamoroso non si sa ancora neanche questo cosa sarà potrebbe essere una ridizione del castello quello di disneyland ma non si sa il 43 222 primo luglio 4387 pezzi visto quanto era andato bene quel castello non è impossibile che ci riprovino però vediamo magari fanno un'altra cosa io spero sempre che facciano cose nuove però anche qua se vado a cercare di immaginare faccio fatica a farmi venire in mente una roba così grande che possono fare di disney comunque è l'anno ufficialmente di disney lego ora vi voglio parlare di un paio di cose perché le sto usando e quindi ne potrete trarre vantaggi anche voi perché avremo delle recensioni comunque siccome ormai su bricklink è diventato difficilissimo ordinare i pezzi forse un giorno vi faccio anche un video su come fare prendere le liste caricare i pezzi su bricklink che è il sito di ritenimento è diventato difficilissimo perché anche dall'europa le spese di pensioni sono altissime quindi ordini pochi pezzi magari ti viene fuori 30 euro di spese e tutto va a mignottes abbiamo questo sito webbrick che ti permette di ordinare i pezzi usare le liste che puoi usare su bricklink un po tutto quello che usi di solito sono pezzi non ufficiali però pare dalle recensioni questi sono consigli di un paio di amici molto positive e quindi i pezzi sembrano veramente ben fatti ne ho presi una parte qua quello che mancava l'ho preso su bricklink per poter fare la speed champions della miura prossimamente vi farò vedere anche quella quindi se riesce ad arrivare tutto arriva in ordine un'altra cosa che ho preso perché ho speso poco a gennaio febbraio e quindi dovevo buttare soldi da un'altra parte sono queste mall king su amazon.de c'è anche un sito ufficiale loro ma non mi pare che spediscono in italia e poi ho preferito usare amazon germania sono la ectone one che state vedendo e la batmobile ci sarebbe anche una delora non fa cagare quindi ho preso solo queste due anche queste appena arrivano le montiamo insieme ne parliamo eccetera 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 spero che nel tg lego vi piacciono anche questi consigli che era quello che facciamo all'inizio perché tornano sempre utili poi sono cominciate a uscire un miliardo di notizie ufficiali e no è diventato complicato però alternerò come al solito questi consigli all'eco ds se posso ne soffrirò anche per poter bene parlare io vi ringrazio mi raccomando fate il vostro dovere parlate perché dobbiamo arrangare a 10.000 dobbiamo andare in danimarca grazie a tutti scrivete commenti dite cosa vi piace cosa non vi piace e soprattutto voglio sapere cosa ne pensate delle notizie nel community tab perché devo prendere una decisione e ho bisogno del vostro parere grazie a tutti alla prossima grazie a tutti